Sono lieto di annunciarvi con grande piacere che mercoledì 9 febbraio alle 11.30 allo stadio Erasmo di Giacobone arriverà la nazionale italiana Under-19 che affronterà la nazionale parietà della Turchia per un incontro di preparazione alla fase finale che si smoggerà in Finlandia a brevissimo. Sono contento, sono contento perché con l'amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci in questi anni abbiamo cercato di creare un rapporto forte con le istituzioni nazionali che contino e anche con la federazione italiana gioco calcio e mi pare che i risultati arrivino, non a caso, arrivano nel 19. Ma vi avviso già che stavamo già lavorando e sicuramente avremo modo di continuare a lavorare per portare a Taranto a brevissimo la nazionale Under-21 e poi chissà, grande evento, magari nazionale maggiore anche in vista in funzione dei giochi del Mediterraneo dal 2026 sarebbe bello portarlo a Taranto. Voglio ringraziare di cuore il dottor Luca Labbianca, il nostro dottor Luca Labbianca, tarantino doc e tifosissimo del Taranto che è nel giro delle nazionali minori già da moltissimo tempo e poi il mister della nazionale Under-19, mister Nunziata che ha voluto fortemente che la nazionale fosse qui a Taranto. Quindi appuntamento mercoledì 9 febbraio alle 11.30 allo stadio Erasmo Jacopone per Italia e Turchia Under-19. Ciao!